13 anni fa Sei scomparso dalla prigione di Caposugnion, dalla quale nessun essere umano per quanto forte riuscirebbe mai a evadere. Io speravo che la punizione divina ti avessi annientato. E invece la punizione divina si è abbattuta su di te, Gemma. Come? Sei schiavo della tua ambizione, costretto a perseguire atroci intenti a rischio della vita. Non è forse una punizione divina? Non sei altro che un fantoccio nelle mani del burattinaio, messo a capo di un bieco esercito per attentare alla vita di Atena. È vero, c'è un malvagio tra noi due, Gemini, e quello non sono io. Adesso basta. Sei stato tu a seminare il male a me, non fingere di ignorarlo. Eri pervaso da un tale odio, che finisti per minacciare la mia vita e quella della dea Atena. E adesso perché indossi quell'armatura? Perché ti ergi a difesa di questo palazzo? Togliti quella maschera e rispondimi! Togliti quella maschera e rispondimi! Togliti quella maschera e rispondimi!